Antonino Floriglia è il nuovo preside reggente dell'Istituto Fantoni di Clusone. Per lei si tratta di un ritorno a Clusone? Sì, è un ritorno a Clusone. Sono stato per cinque anni preside del glorioso Pacati, che oggi ha una fortuna diversa, parte ecco comunque dell'Istituto Fantoni. Ho lavorato bene, mi sono trovato bene all'Istituto Pacati, sette anni fa, fino a sette anni fa. Devo dire che ho lasciato veramente il cuore in quella scuola. Abbiamo detto che qui è reggente, dirigente scolastico invece dove? Sono dirigente a Dalfoborio Terme all'Istituto Livelli Putelli. E questo è il mio primo anno di esperienza ecco come preside reggente. Capisco che sia un ruolo e un lavoro impegnativo proprio perché è vero che parti da una scuola consolidata, ecco da una scuola che ha un'identità e una tradizione sul territorio, però è anche vero che in una scuola il lavoro non finisce mai, non è standard. Quindi si lavora sempre per far progredire la scuola, intesa come amministrazione pubblica che eroga un servizio al territorio ed in primis agli studenti e alle loro famiglie. L'anno scolastico sta per cominciare. Quali sono gli aspetti che avete individuato sui quali lavorare in queste prime battute? Certo, inizialmente ho presentato questa idea proprio di scuola che eroga un servizio. Quest'anno intenderei io proporre proprio questa idea, sviluppare questa idea, non solo per quanto riguarda il servizio didattico, quindi la didattica in sé, ma anche per quanto riguarda i servizi, diciamo così, che eroga la scuola poi, il servizio non didattico, va bene, il servizio di segreteria, quindi la comunicazione della scuola con gli studenti, con le famiglie e col territorio, dico in genere. Un altro aspetto su cui io penso che si debba concentrare tutta la scuola italiana, penso che sia proprio quello del lavorare per l'inclusione, istituire il gruppo di lavoro per l'inclusione per rispondere ai bisogni educativi speciali che ogni anno rileviamo nella nostra utenza, parlando di disabilità, parlando di disturbi evolutivi, parlando di studenti stranieri e parlando di studenti che vivono una condizione di disagio economico, socio-economico e anche culturale. Questo io penso che sia la vera sfida di quest'anno. È innegabile che in questi anni il Fantoni abbia subito un calo di iscrizioni. Come pensa di lavorare in questo senso? Beh, sì, questo è un dato con cui mi sto confrontando, sto cercando di capire il fenomeno che c'è. Certamente devo dire che forse è immeritato questo calo di iscrizioni, mi sembra di capire questo. E certamente c'è questo, scuola e territorio debbono tornare a parlarsi e a confrontarsi e la scuola in primis deve esprimere la propria capacità, la propria competenza e dare conto del servizio che si svolge qui all'interno dell'istituto, proprio dare conto di tutto questo al territorio, in primis alle famiglie.